Al giudice non ha voluto dire nulla ma il sospetto è che, evaso da più di tre settimane, sia stato espulso dalla Svizzera e che finito a Verbania, non sapesse più come rientrare a casa. È stato lui stesso, cittadino albanese di 39 anni, a fermare domenica la pattuglia dei carabinieri e a costituirsi. In piena notte, sotto la pioggia torrenziale, all'equipaggio che percorreva Piazza Garibaldi a Pallanza con l'auto di servizio... Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.